Grazie a tutti. L'uomo viaggiava a bordo di un Renault Clio quando si è scontrato frontalmente con un camion che procedeva nel senso opposto. L'auto ormai è ridotta in un rottame e finita sul fosso. Le condizioni dell'uomo sono subito apparse gravissime e a nulla è valso l'intervento dei medici del 118 che hanno tentato di rianimarlo. Sul posto anche la polizia stradale di Valenza che sta facendo gli accertamenti del caso e i vigili del fuoco che hanno estratto la vittima dalle lamiere contorte. Sotto shock il conducente del mezzo pesante che non ha riportato ferite. Il secondo incidente invece si è verificato intorno alle 12.30 sulla provinciale 185 verso Casal Cermelli. Lo scontro ha coinvolto due Fiat Panda. A perdere la vita è stata Maria Piazzanini. aveva 80 anni e abitava a Casal Cermelli. Anche qui si è trattato di un incidente frontale la cui dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri di Alessandria. La SRT, la società che si occupa del recupero e del trattamento dei rifiuti e che gestisce le discariche di Novi Ligure e di Tortone, è intervenuta con un comunicato stampa per chiarire che in riferimento all'inchiesta avviata dalla procura di Brescia sul traffico illecito di rifiuti tra Nord e Sud, la notizia riportata su una testata giornalistica online è totalmente falsa e che il direttore Andrea Firpo e il responsabile degli impianti Claudio Cattani non hanno ricevuto alcun provvedimento giudiziario e tantomeno sono stati tratti in arresto, così come invece aveva riportato la testata. La terra ha tremato ieri pomeriggio in Val Curone, in provincia di Alessandria, tra San Sebastiano e Montacuto. Per fortuna le scosse di terremoto si sono registrate a una profondità di 21 km dal suolo e come hanno segnalato i vigili del fuoco e la protezione civile non ci sono state chiamate dagli abitanti della zona, i quali non si sono accorti di nulla. La scossa più forte di magnitudo 2.9 ha avuto l'epicentro a 2 km sud-est da San Sebastiano Curone. Il territorio è stato monitorato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che non ha registrato altri smottamenti. Un avviso adesso per gli abitanti di Novi Ligure dove gestione acqua informa che a causa di una rottura nella condotta idrica di via Crispi è stato programmato un intervento di riparazione per questa sera a partire dalle ore 20 e 30. Potrà quindi verificarsi l'interruzione dell'erogazione di acqua potabile in molte zone di Novi Ligure, sicuri cali di pressione e torbidità nella giornata di domani. Gli scienziati prevedono che la prossima sfida globale sarà proprio quella della guerra per l'acqua. Ma nonostante siano anni che sentiamo dire che proprio l'acqua diventerà come il petrolio, i governi centrali fanno veramente poco per evitare una possibile enorme emergenza. Consumiamo più acqua di quella disponibile e ne sprechiamo continuamente. I campi sono aridi, aumentano gli incendi e c'è grande preoccupazione sia per l'agricoltura che per gli allevamenti. Le organizzazioni agricole e il WWF puntano il dito contro le politiche inermi nei confronti di chi dovrebbe investire somme di denaro per far pronte a questa drammatica situazione. Eppure riguardo ad esempio gli ultimi mesi, nonostante il Ministero dell'Ambiente abbia ammesso che le anomalie idrogeologiche si sono registrate già alla fine del 2016, non ha tentato neppure un coordinamento fra gli enti preposti. E così facendo, anzi così non facendo, siamo di nuovo in stato di emergenza. L'Italia è il paese delle emergenze, delle calamità. Si conosce molto bene a monte il problema, ma non si fa nulla per prevenirlo, perché nello stato di calamità siamo tutti solidali, con buona pace dei consensi, soprattutto politici. L'ultima emergenza che stiamo vivendo è quella legata alla siccità e alle conseguenze che si porta presso, sia in termini climatici che di consumi. Qui siamo sotto al Ponte Meier, siamo ad Alessandria, quello è il fiume Tanaro e come vedete di acqua ce n'è veramente poca. La grande sete che sta colpendo tutto lo stivale è ormai investito i due terzi della superficie agricola con rischi, ad esempio in Piemonte, della campagna Cerialicola, dove al momento si stima il 30% in meno di resa nei foraggi. E allarme per i vigneti e i noccioleti, mentre in Liguria sono sotto stretta osservazione gli oliveti. Le amministrazioni comunali fanno quello che possono, riesumando ogni anno la vecchia solita ordinanza che invita i cittadini ad un uso corretto dell'acqua potabile, fino a quando, nella situazione estreme, i cittadini l'acqua non se la devono andare a prendere dalle cisterne. Ma una cosa è certa, consumiamo più acqua di quella disponibile e non c'è nessun piano di efficientamento per quanto riguarda soprattutto l'agricoltura e l'allevamento. Secondo il WWF, queste attività sono responsabili di una quota compresa tra il 44% e il 65% dei consumi idrici totali, a fronte dei 15-20% di quello che viene consumato a uso domestico. Secondo gli esperti, per risolvere il problema occorrerebbe ricorrere a cambiamenti strutturali che rivoluzionino la gestione e il consumo. Si parla di investimenti che vanno dai 5 ai 10 miliardi su un arco temporale di almeno un decennio. Misure che prevedano l'irrigazione a goccia per le coltivazioni agricole, una rete in grado di separare le acque reflui e scure da quelle chiare per consentire il recupero da destinare all'agricoltura e all'industria di un sistema di recupero delle acque piovane. Ma da Roma tutto tace e a rendere ancora più grave la situazione è la totale mancanza di coordinamento tra gli enti. Ognuno del proprio pezzo di fiume fa quello che vuole, perché è solo in caso di emergenza che allora scatta il coordinamento. Nel luglio dello scorso anno, su iniziativa del Ministero dell'Ambiente, sono sorti gli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici, così da garantire una gestione ottimale dell'acqua. Ma si chiede allo stesso Ministero come mai, se alla fine del 2016, hanno cominciato a registrarsi anomalie idrogeologiche, che se la siccità è stata così grave come mai si era registrata negli ultimi 200 anni e non si è fatto niente. Sembra un cane che si morde la coda e dove guarda caso. La coda siamo noi, a cui spetterà un conto molto salato. Non era malata la tedesca a 55 anni, uccisa dal marito otto anni fa a capanne di Marcarolo. L'uomo che sostiene di averle tolto la vita su sua richiesta e di aver poi cercato di suicidarsi risponderà di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e in carcere al Don Soria ad Alessandria. Emma Cavagna. Nessuno dei due era malato di cancro, né lei che è morta, né lui che l'ha uccisa. Lo hanno stabilito le autorità sanitarie tedesche otto mesi dopo lo suicidio compiuto il 10 ottobre nel parco Capanne di Marcarolo, in territorio di Bosio. Qui Albert Günther Lindmer, 51 anni, abitante in Baviera, ha strangolato la moglie Edi Caterina di 55. E così l'uomo che è in carcere è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Il 13 settembre si terrà l'udienza preliminare. In quel luogo, scelto dopo un lungo girovagare su una Toyota, Albert Günther ha strangolato Edi Caterina con un cavo elettrico, poi ha cercato di impiccarsi, usando lo stesso mezzo, al ramo di un albero che però si è spezzato. Nella caduta ha riportato delle lesioni e vive rinchiuso nel carcere di Piazza Donsoria. Masticando un po' d'inglese, l'uomo ha raccontato l'omicidio e il tentato suicidio senza mai cambiare versione. E così ha fatto anche con il proprio legale Maurizio Chiarito. Ho ucciso per amore. Fu lei a pregarmi di aiutarla a morire perché malata di tumori è stato avanzato. Io stesso ho un cancro. Insieme abbiamo deciso di farla finita scegliendo il luogo, quello dove andavamo in vacanza, per porre in essere il tragico progetto. Ma per i sanitari tedeschi che li avevano in cura, lei era solo gravemente depressa. E depresso era anche lui, minati da una melanconia profonda e patologica. Fatica quindi a reggere la tesi da lui sostenuta del cosiddetto omicidio del consenziente che si verifica quando uno uccide un altro che gli ha chiesto di aiutarlo a morire per mettere fine ad atroci sofferenze. La squadra mobile di Alessandria ha eseguito quattro misure cautelari emesse dal Tribunale per i minorenni di Torino a carico di quattro diciassettenni stranieri residenti da anni ad Alessandria che si sono resi responsabili di una serie di furti all'interno di esercizi commerciali di cui uno era generato in rapina. In quest'ultimo episodio infatti i quattro minorenni dopo essere stati sorpresi da una guardia giurata mentre stavano occultando la merce che avevano appena rubato hanno reagito con violenza picchiando e insultando l'uomo e poi dandosi alla fuga. Uno dei giovani indagati è stato rinchiuso nel carcere minorile Ferranti a Porti di Torino mentre gli altri tre sono stati portati in una comunità di recupero. E ora torniamo a parlare dell'outlet di Serravalle Scrivia dell'apertura da parte sindacale con i vertici aziendali. Le ultime novità sono di Enrico Mariano. Sembrano aprirsi fessure a Serravalle Scrivia tra il muro contro muro nata all'outlet tra dirigenza del centro commerciale e sindacati. Nei giorni scorsi infatti si è tenuto un primo incontro tra le due parti. Un incontro propedeutico per costruire le fondamenta di un possibile dialogo addirittura di una trattativa che per le forze sindacali dovrà misurarsi su aperture festive, orari di lavoro e sull'idea di costruire all'interno della struttura un asilo nido e scuola per l'infanzia. Il primo faccia a faccia è stato giudicato positivamente dalle forze sindacali. Intanto sono già stati calendarizzati i prossimi incontri. Le organizzazioni dei dipendenti hanno annunciato la loro intenzione di presentare una bozza d'accordo punto di partenza per dare vita a una piattaforma sindacale. Novità sempre a Serravalle anche per il Mercatone 1. I commissari straordinari Stefano Cohen, Ermanno Sgaravato e Vincenzo Tassenari visto l'esito della gara conclusasi il 16 giugno dopo una valutazione delle tre offerte vincolanti pervenute hanno preso atto che non si sono verificate le condizioni per la giudicazione. Nessuna delle offerte vincolanti è risultata conforme al disciplinare di gara o in linea con gli obiettivi della procedura. Di conseguenza i commissari sono stati autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico ad avviare una procedura di cessione dei complessi aziendali mediante trattativa privata con i soggetti interessati. La trattativa diretta consentirà ai commissari una maggiore flessibilità unitamente ad una più efficace e rapida valutazione economica delle offerte in funzione della miglior tutela degli interessi dei dipendenti e dei creditori. A supporto di questa nuova fase i commissari straordinari hanno già sottoposto agli organi di vigilanza un nuovo piano economico finanziario a tutela della continuità aziendale. Il Comune di Genova ha trovato 12 milioni di euro per la partecipata AMIU che si occupa della raccolta dei rifiuti. L'operazione è stata resa possibile grazie all'assestamento di bilancio 2017 di Palazzo Tursi che ha approvato circa 20 milioni di impegno di spesa. La cifra consentirà all'amministrazione di ridurre così il debito verso la partecipata per la raccolta dei rifiuti evitando ulteriori aumenti della Tari. Lo hanno annunciato il sindaco Marco Bucci gli assessori comunali al bilancio e al ciclo dei rifiuti Pietro Picciocchi e Matteo Campora. Le risorse derivano da avanzi di bilancio accantonamenti e rinegoziazioni di mutui economie di spesa e maggiori entrate. E adesso parliamo invece delle vacanze estive come sempre con la bella stagione la preferenza cade sulle località marittime ma i turisti apprezzano molto anche le città d'arte e la scoperta delle bellezze storico architettoniche che custodiscono. Secondo i dati riferiti da Kodakons l'associazione per la difesa dei consumatori quest'anno il budget è calato ma in linea di massima saranno in pochi a rinunciare del tutto a qualche giorno di vacanza. Alessandra Davacà Un'estate buona e un agosto da leone per il turismo saranno oltre 33 milioni gli italiani in vacanza da giugno a settembre più 9,5% rispetto al 2015 e in particolare più di 22 milioni si metteranno in movimento in questo mese per raggiungere una delle tante località turistiche italiane. A confermare il momento di vitalità di uno dei settori di punta dell'economia sicuramente anche dovuto alle tensioni internazionali che stanno facendo soffrire alcune mete come la Turchia la Tunisia e il Mar Rosso lo racconta un'indagine di Federal Bergy anche se come invece spiega il Kodakons in generale è calato il budget insomma vacanze sì ma più brevi e ottimizzando i costi. Le mete dell'estate 2017 più Italia o più estero? Più estero quest'anno l'anno scorso c'è stato invece un aumento dell'Italia quest'anno invece gli italiani sono ritornati almeno agli alessandrini molto all'estero soprattutto in Grecia e le Baleari sono le mete più richieste in assoluto. In Italia invece quali sono le mete privilegiate? In Italia diciamo 90% al sud soprattutto la Sicilia la Sardegna e la Puglia soprattutto perché la gente ha scoperto che non esiste solo il mare ma esistono anche le città d'arte i luoghi di interesse a livello archeologico e storico e quindi viene sempre più apprezzato il sud perché è ricchissimo di queste possibilità di visitare e di abbinare una vacanza classica rilassante anche un po' di cultura. Andrà in vacanza è già andato? Vado tra una settimana tra quattro giorni esattamente. Cosa si concede? Dove? Questa prima settimana vado a Creta poi faremo un po' di mare in Liguria e poi faremo una crociera a settembre quindi faremo un po' di cose. Noi in vacanza non andiamo abbiamo i genitori anziani perciò li guardiamo dobbiamo guardare i genitori. Siamo già andati siamo andati nelle Marche. Partiamo il 21 Dove andate? Calabria io sono un calabrese quindi vado giù. No andrò nel mese di agosto. Quindi ci andrà qual è l'aspettativa? Metà da Croazza penso. Sì sì andrò andrò a Dublino con la mia ragazza il primo anno che faccio un viaggio importante da solo quindi Vacanze già fatte andate malissimo quindi per favore chiedetemi qualcos'altro ma non delle vacanze. Bene tra poco la pagina sportiva con la linea che passerò alla stessa Alessandra Della Capo e le previsioni del tempo e la rubrica delle notizie utili grazie per averci seguita arrivederci Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.